oh e anche questi li abbiamo spesi eh sì è arrivato il momento di fare l'upgrade anche per la piccola sony alfa 6003 ormai non ci vedo più ho bisogno di un monitor più grande quindi ho optato per un 5 pollici della fill world si tratta di un monitor che non in tanti conoscono perché si parla moltissimo del ma5 mentre io ho trovato questo f5 leggermente più economico della ma5 con praticamente le stesse caratteristiche e quindi ve le voglio mostrare il monitor ha una risoluzione di 1920x1080p ed è questo qui che vedete attaccato alla mia sony è un 5 pollici ps all'interno della scatola viene fornito già con il suo braccetto vedete questo braccetto metallico che è in grado di supportare sia il monitor ma anche eventualmente un microfono esterno uno shotgun come il mio sure qui sopra trovate la recensione se non l'avete ancora vista e viene fornito con un sacco di cose all'interno della scatola troviamo ovviamente il monitor troviamo un cavetto hdmi che non è questo che vedete qui arrotolato ma è un cavetto classico hdmi trovate questo utilissimo parasole appunto il braccio tiltabile con un collegamento alla slitta rapida qui ma io in realtà l'ho attaccato direttamente al mio small rig per avere più spazio quando sono con il setup completo di questa camera e ovviamente il manuale di istruzioni sempre all'interno della scatola perché ho scelto l'f5 invece del ma5 beh semplicemente per un discorso di prezzo perché le caratteristiche vi dicevo sono le stesse identiche il piccolo monitor ci permette di ruotare tramite questa leva il monitor di 360 gradi ha una risoluzione di 1920x1080 come vi dicevo prima ha due porte hdmi una in e una out entrambe supportano il 4k e non c'è ritardo dell'immagine nel momento in cui andiamo a fare le riprese ha un dc out per alimentare la camera e un dc in per alimentare il monitor ha la possibilità di collegare le cuffie direttamente al monitor così non dobbiamo più collegarle alla camera e all'usb per fare gli upgrade lateralmente troviamo gli agganci da un quarto di pollice in questo caso in confronto all ma5 ne ha solamente due in realtà non ne ha neanche uno perché sono collegati vedete in questa maniera qui sono collegati con questo attacco che può essere spostato da qui a qui quindi a due possibili collegamenti per la vite da un quarto di pollice lma5 invece le ha integrate all'interno della scocca del monitor stesso molto molto bello il piccolo parasole che viene dato con il pacchetto vi dirò accendendo la telecamera adesso la accendiamo e accendendo anche il monitor che si accende non appena andiamo ad inserire la batteria qui dietro batteria che può essere sia una f9 70 sia una lp e 6 molto interessante perché abbiamo la possibilità di fare uno slide e inserirla o di qua o di qua comodo vi faccio vedere come si vede il monitor guardate già direttamente sotto il sole senza neppure il parasole secondo me è veramente ottimo tra l'altro guardate anche l'angolo di visuale calcolate che siamo sotto al sole non sto neanche vedendo esattamente che cosa vi sto inquadrando però avete una visibilità veramente ottimale tra l'altro una cosa bellissima di questo monitor è il peso perché pesa 142 grammi praticamente nulla cioè con il setup completo così come lo vedete è comodissima da trasportare tutta la camera con monitor e con shotgun sono veramente felicissimo anche della qualità dei colori che si visualizzano adesso sta riprendendo in s log la telecamera non possiamo inserire delle lat all'interno del monitor perché non è prevista un ingresso per le lat purtroppo questo forse è l'unico difetto che ho trovato su questo monitor in queste dieci giorni in cui lo sto provando e ripeto la riproduzione dei colori è veramente veramente valida e affidabile forse anche grazie alla calibrazione professionale rec 709 vi ricordo che questo monitor può anche trasmettere in broadcast tramite l'uscita hdmi appunto come vi dicevo prima il tilt arm l'ho collegato sul mio small rig non mi piace particolarmente il metodo di collegamento perché la vita una volta che noi stacchiamo il braccetto si toglie non rimane incastrata come nella maggior parte dei supporti che utilizzo per la sony quindi nel momento in cui togliete il braccetto se dovete andare a riporre la telecamera state attenti perché potreste rischiare di perdervi stupidamente la vita a meno che non utilizzate l'aggancio che invece va a collegarsi sulla slitta della vostra telecamera mi piace anche tantissimo la possibilità di collegare il microfono lateralmente di modo che non ho bisogno di utilizzare altri attacchi dello small rig ma è tutto collegato sulla barra proprietaria del monitor non vi ho mostrato la parte superiore del monitor è piena zeppa di tasti che adesso andremo a vedere uno per uno per capire di che cosa si tratta ma velocissimamente abbiamo la possibilità di creare dei menu personalizzati sui tasti f1 f2 poi abbiamo i tasti per lo spostamento a destra e a sinistra nei menu il tasto menu il tasto per lo spostamento verticale dei menu e il tasto di accensione all'interno dei menu troveremo focus peaking histogrammi falsi colori zebra aspect ratio differenti avremo la possibilità di flippare l'immagine se utilizzeremo il monitor al contrario abbiamo la griglia della regola dei terzi ovviamente abbiamo la possibilità di utilizzare degli zoom di impostare delle safe area di impostare la visualizzazione anamorfica e abbiamo anche l'audio incorporato ma ora diamo un'occhiata alle impostazioni direttamente al monitor tengo appositamente il monitor sotto il sole di modo che possiate dare un'occhiata alla qualità dell'immagine vedete che è fantastico veramente sono stra contento di questo oggetto allora diamo una zoom mattina e diamo un'occhiata ai menu che abbiamo sopra dicevamo appunto lo ruoto che così potete vedere c'è il primo dei pulsanti che ci interessa che è il pulsante menu che andrò ad attivare per entrare all'interno dei vari menu della telecamera noi se ci spostiamo su e giù abbiamo il picture mode abbiamo la brightness il contrasto la saturazione la nitidezza la temperatura colore che possiamo andare a sostituire il rosso il verde il blu e anche la tinta con i pulsanti su e giù appunto ci sposteremo su e giù con i pulsanti invece qui laterali che sono destra e sinistra ci potremmo spostare nei menu destra e sinistra ad esempio ho cambiato la temperatura colore e l'ho messa a 9300 kelvin 6500 piuttosto che user che è quella che sto utilizzando in queste giornate di test torniamo sul menu pulsante destro piuttosto che pulsante sinistro per spostarmi vedete nei menu ci spostiamo sul secondo menu così diamo un'occhiata a la lingua che non è gestibile in italiano ma è gestibile in parecchie altre lingue io rimango in inglese per evitare di fare errori giapponesi poi aspect ratio la possibilità di gestire la tipologia di segnale quando non arriva il segnale quindi in questo caso blue screen l'osd i vari le varie gestioni degli osd e quindi dello spostamento del nostro menu su giù destra e sinistra eventuali retro luci retroilluminazioni il l'accensione del monitor in automatico o meno l'usb upgrade se abbiamo degli upgrade da effettuare e il reset alla versione di fabbrica andiamo avanti ci spostiamo e abbiamo la possibilità di gestire le griglie di zoom vedete posso zoomare per 4 per 9 per 16 e anche i vari modelli di zoom in questo caso lascio tutto in automatico così perché il mio interesse è vedere appieno lo schermo principale ci spostiamo nell'altro menu che è quello delle impostazioni dove abbiamo la possibilità anche qui vedete di gestire una quantità enorme di informazioni ad esempio questo mi piace moltissimo il safe frame quindi la possibilità di gestire un'area di sicurezza della nostra telecamera torniamo nel menu vedete 85 90 95 e vi dà le varie disponibilità anche dei 4 terzi piuttosto che dei 16 nodini 235 per avere il cinema scope e via dicendo la griglia dei noni ok i dei terzi la regola dei terzi off piuttosto che on la possibilità di frizzare l'immagine quindi adesso vedete è in movimento l'immagine se io gli do il freezing lui mi mantiene praticamente quell'immagine frizzata l'image flip per andare a ruotare il monitor sotto sopra anche lo sd flip e l'attivazione dell'anamorfico sempre andando in basso possiamo andare a attivare il monocromatico il rosso il verde o il blu possiamo andare ad attivare e disattivare l'istogramma che io ho poi comodamente inserito all'interno di uno dei tasti di menu rapidi i falsi colori il focus assistant quindi nell'eventualità fossimo in fuoco manuale abbiamo la possibilità di vedere appunto in rosso piuttosto che in blu piuttosto che insomma con i colori che vogliamo andare a decidere noi il picking color qui sotto e la possibilità di vedere l'over exposure quindi la zebra i livelli di esposizione e l'audio integrato anche qui abbiamo la possibilità di gestire le bande laterali o meno questa cosa mi piace tantissimo perché crea delle bande laterali e le scurisce quindi non mi cancella completamente l'immagine vedete ma mi tiene le immagini visibili ma leggermente scurite in confronto al resto dello schermo ed è una roba fatta bene cioè per uno schermo da 150 euro è veramente tanta roba secondo me ok ci spostiamo di nuovo qui che mi sono perso in chiacchiere e sono uscito dal menu eravamo arrivati a ratio marker qua e andiamo a toglierlo perché in questo momento non mi interessa mark color anche qua possiamo decidere i vari colori le dimensioni del marker e le modifiche dei vari marker che adesso non sono attivi quindi non le vedete ci spostiamo nell'ultimo dei menu che è quello delle function che ci permette di andare ad impostare su questi due pulsanti qui f1 e f2 delle impostazioni che più vi interessano io in questo caso ho inserito all'interno delle mie impostazioni f1 l'istogramma e f2 il focus assist quindi se usciamo dal menu pigio il mio f1 e mi da l'istogramma ulteriore adesso è attivo anche sulla camera lo tolgo ecco vedete che posso attivarlo e disattivarlo e con questo posso andare ad attivare invece con l'f2 posso andare ad attivare il focus peaking nel momento in cui sto facendo le riprese manuali che ne dite vi è piaciuto questo monitorino a me tantissimo ragazzi costa poco è valido mi permette di vedere veramente bene ciò che sto filmando lo consiglio veramente veramente a tutti quanti se vi è piaciuto il video ricordatevi di cliccare mi piace e iscrivetevi al canale se non avevate ancora fatto ciò accendete la campanellina perché così vedrete tutte le novità degli ultimi video che usciranno sia nell'ambito di recensioni sia nell'ambito magari anche dei corsi di videoproduzione se vi può interessare l'argomento a me non resta che salutarvi ricordarvi che qui sotto nel link in descrizione avete la possibilità di trovare il link per l'acquisto di questo gioiellino e noi ci vediamo con il prossimo video ciao